Si avvicina il Natale con questo anche gli acquisti per i regali natalizi. Molte persone si preparano in anticipo ma soprattutto arriverà la corsa all'ultimo minuto per il regalo. Come si preparano i negozi della città di Sansepolcro agli acquisti di Natale? Noi siamo pronti, prontissimi, hanno già iniziato naturalmente. Come stanno andando le vendite attualmente? Diciamo che abbiamo sofferto un pochino la crisi come un po' tutti, sta migliorando e sta partendo un pochino questa corsa al regalo. Gli acquisti stanno andando nella norma, abbiamo notato che non ci sono differenze con gli anni passati, grazie a Dio. Speriamo di concludere l'anno con un bilancio positivo. Sono diminuite tanto le vendite, io ho 43 anni che sono al commercio, è diminuito tantissimo, la crisi c'è, i negozi sono tanti, gli esercizi commerciali sono quadruplicati, ha capito? Come sono cambiati gli acquisti dei negozianti stessi in conseguenza della crisi e delle difficoltà economiche dei cittadini? Sono cambiati soprattutto sulla tipologia di accoglienza, soprattutto, perché il sorriso e la coccola quotidiana sono gradite, soprattutto ai clienti, alle signore, ma un pochino a tutti i clienti. Un regalo personalizzato, un consiglio personalizzato è quello che fa, secondo noi, la differenza. E' attesa la classica corsa dell'ultimo minuto per il regalo? Sicuramente, negli ultimi anni la data di acquisto dei regali si è sempre più posticipata, quindi non ci allarmiamo e aspettiamo serenamente la corsa finale.